Ciao, continuiamo a studiare la lingua russa, scopriamo delle parole molto importanti per i discorsi di tutti i giorni. Sono contenta che siamo di nuovo qui. Mi chiamo Anna, questo è il canale YouTube Lingua Russa in Pratka e con questo video continuiamo il corso di russo base, o per essere precisi, la seconda parte del corso base. L'inizio per i principianti assoluti lo trovi qui in alto, mentre se mi segui da un po' di tempo e hai tutte le basi, riprendiamo subito. Nel periodo in cui registro questo video siamo ancora nella situazione di emergenza. Approfittiamo della quarantena per imparare tante cose nuove e arricchire il nostro vocabolario. Ci aiuterà moltissimo quando la quarantena finirà e comunque in qualsiasi altro momento. Nei prossimi due video, compreso questo, parleremo del meteo, del tempo che c'è fuori. Come dice in russo, fa freddo, c'è il sole, ha nevicato, il clima è mite, domani sarà nuvoloso. Impariamo a descrivere il meteo dalle parti dove abitiamo, o in una zona della Russia, o negli altri posti del nostro pianeta. Prova a dire le parole che ci serviranno tra poco per parlare. Dopo una pausa ti aiuto a controllare la tua pronuncia di ogni parola. Prova a direzione. la ripeto Benissimo, per dire piove o nevica in russo diremo c'è la neve o c'è la pioggia perché i verbi nevicare e piovere non esistono nella lingua russa come dici oggi piove letteralmente oggi pioggia spesso si usa il verbo andare con queste due parole piove, id'ot, d'osť nevica, id'ot, snieg molto bene io sprašivau, a ty per poter parlare in russo velocemente, senza pause e correttamente esercitiamoci con un breve dialogo ora mi rispondi con qui c'è il verbo poi Possiamo anche dire Здесь идет дождь Здесь ветер или град? Здесь ветер Здесь снег или солнце? Здесь солнце Отлично! Allena l'orecchio Ascoltando una conversazione Tra due amici Uno di loro dovrebbe andare in Russia E l'altro gli fa delle domande Poi ti chiederò Come hai capito il tempo che fa oggi? Привет! Что ты делаешь в пятницу? Привет! В пятницу я еду в Россию Правда? Ты там будешь работать? Еще не знаю Какая там погода? Холодно? Нет В сентябре обычно тепло Но сегодня там прохладно И дождь Интересно А когда там снег? Думаю, в ноябре В сентябре В сентябре И дождь И дождь Чисьямо Привет! Что ты делаешь в пятницу? Что ты делаешь в пятницу? В сентябре В сентябре В сентябре В сентябре Andiamo avanti Правда? Ты будешь там работать? Ля тура Риспоста Ра пробабельмейнте Еще не знаю Какая там погода? Какая там погода? Холодно? Нет В сентябре обычно тепло Но сегодня Там прохладно И дождь Интересно А когда там снег? Думаю В ноябре è Вам Ваааа Вааа 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 кому А ма Ваааа Ваааа Ваааааер Ваааа Commerce Prendi il ruolo dell'amico che fa le domande. Salutami e chiedi cosa faccio questo venerdì. Prendi il ruolo dell'amico che fa le domande. Prendi il ruolo dell'amico che fa le domande. L'ordine delle parole libero si può dire anche Andiamo avanti. Prendi il ruolo dell'amico che fa le domande. Ripassa questo episodio alcune volte e poi vai avanti. Stai proseguendo in una maniera molto bella. Metti mi piace a questo video se ti è piaciuto. Ci vediamo nei prossimi video. Uvidimcia v slieduicich vipuskach. Ciao! Ciao! Ciao!